Bruno Barre oggi a difesa della Porta Arancione, un tuo intervento oggi nel momento più importante della gara, ha messo la tua firma su questa vittoria fondamentale. Sì, per fortuna alla fine non ho fatto tanti tiri in porta, ma mi sono fatto trovare pronto all'unico tiro che mi è arrivato e per fortuna questa giornata ho blindato la mia porta. Grazie.